Ben trovati a questo nuovo appuntamento con Crowdfarm.me, oggi conosceremo una delle società che attualmente è in campagna sul nostro portale, sto parlando di Sterify, che è una start-up che ha brevettato un gel medico capace di curare abrasioni e ferite, prevenendo quindi l'utilizzo di antibiotici. Conosceremo questa realtà attraverso il CEO e founder Paolo Fattori, che saluto. Ciao Paola, grazie dell'opportunità che ci date per presentare il nostro progetto. Grazie a te Paolo, allora direi di iniziare subito con le domande e ti chiedo di raccontarci qual è il settore di competenza di Sterify. Noi ci occupiamo di questa problematica da un punto di vista alternativo al farmaco, infatti produciamo dispositivi medici. L'ambito commerciale è quello del dentale, della cura delle ferite difficili, dell'ortopedia e della chirurgia generale. È un settore che cuba circa 35,6 miliardi di dollari visti per il 2022. Qual è lo stadio di maturità dell'azienda? Sterify è una start-up innovativa, però è una spin-off di Tissue, che invece è un'azienda nata nel 2018 che si occupa dello sviluppo di dispositivi medici per la medicina rigenerativa. La nostra vocazione, quindi quella di Sterify, però è diversa da quella di Tissue, perché noi ci occupiamo di prevenzione, quindi andiamo a cercare di prevenire una problematica invece che curarla. Paolo, raccontaci allora quali sono i vostri punti di forza. Dunque, noi abbiamo già depositato due brevetti, in questo momento siamo nella sottomissione al PCT, quindi internazionale, e abbiamo depositato anche il marchio registrato. Abbiamo un network di distribuzione consolidato, un team con un'esperienza decennale nel settore del biomedicale e processi produttivi scalabili e sostenibili. Cosa si deve aspettare chi decide di investire su di voi? La exit strategy a 5 anni prevede tre possibilità, o l'acquisizione di quote da parte di un'azienda leader del settore biomedicale, o l'acquisizione di quote da parte di un fondo di investimento o la quotazione. In ogni caso, la nostra intenzione è mantenere il controllo dell'azienda per poter sviluppare nuovi dispositivi o ampliare gli usi intesi, e cercheremo di premiare comunque chi ha creduto in noi nel early stage. Allora, ti chiedo come utilizzerete i capitali raccolti durante la campagna? Più del 60% verrà utilizzato per lo sviluppo, la validazione e la certificazione dei dispositivi. Il resto verrà investito in sales e in marketing, anche in marketing scientifico che è proprio ideutico alla vendita in questo settore. Paolo, terminato lo sviluppo dei dispositivi oggi in pipeline, avete intenzione di progettare nuovi device? Il nostro background è fortemente incentrato sulla ricerca e sviluppo, quindi è nostra intenzione ampliare il più possibile gli usi intesi dei dispositivi e proseguire nella ricerca di soluzioni che permettano al nostro corpo di rimanere in salute per tutta la vita. Ti faccio un'ultima domanda, quali sono le previsioni del mercato del biomedicale in crescita per il medio termine? Nel mercato del biomedicale si prevede una growth rate prevista del 14,5% e noi pensiamo che la pandemia Covid-19 sensibilizzerà ulteriormente sul tema della salute e il problema della resistenza ai batteri è diventato centrale ormai perché sono previsti più di 10 milioni di morti purtroppo entro il 2050 proprio per questo tipo di problematica. Abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ringrazio tanto Paolo Fattori, appunto sia founder di Sterify per aver partecipato e ti faccio l'inbucca al lupo per questa campagna. Grazie mille a voi e ringraziamo intanto tutti quelli che fino ad oggi hanno già investito nella nostra realtà. Grazie mille a voi e ringrazio tanto Paolo Fattori, grazie mille a voi e ringrazio tanto Paolo Fattori, grazie mille a voi.